L'Occidente ragiona con i suoi criteri di libertà religiosa, di diritti umani, di laicità dello Stato. In Medio Oriente bisogna puntare direttamente su questi valori o è meglio un approccio diverso secondo lei? Penso che questi valori sono valori universali anche se dalle nostre parte si dice che no, quelli sono occidentali. Allora noi abbiamo deciso ed è stato detto chiaramente che alcune espressioni non le usiamo in arabo, per esempio la laicità anche se abbiamo aggiunto positiva, che è la formula usata dal Papa stesso ai Bernardin a Parigi, che la formula tradotta tale quale non va, perché laicità evoca ateismo, irreligione, immoralismo, dunque dobbiamo tener conto di questo. Abbiamo difatti altre formule, in arabo diciamo vogliamo una società civile e noi abbiamo detto addirittura che vogliamo una società religiosa dove la religione ha il suo posto ed è fondamentale, ma non islamica o cristiana, ma uno Stato di credenti che però si fondano sui principi universali di ugualianza, di diritto civile, della libertà di religione. La libertà di religione è stata sottolineata in modo eccezionale dal sinodo. Si è parlato sempre di libertà di coscienza, perché? Perché i musulmani dicono sempre ma la libertà, ma l'islam è la religione della tolleranza. Io dico è vero, ma noi non vogliamo essere tollerati, vogliamo essere presi come cittadini, nel pieno senso della parola e non essere tollerati, vogliamo essere, avere la libertà di annunciare il Vangelo come voi avete il dovere secondo l'Islam di annunciare l'Islam. Anche per noi è un dovere per il cristiano dal battesimo, però non come aggressione, ma come gesto d'amore per dire io ho scoperto che il Vangelo è la cosa più bella nella nostra vita. Se vuoi anche ti offro questa bellezza. Anche tu mi presenti l'Islam della maniera più bella e così ci arricchiamo l'un l'altro a vicenda delle nostre esperienze spirituali. Cioè anziché l'idea è, non è un confronto islamo-cristiano, ma insieme abbiamo degli oggettivi comuni che mirano a Dio e così possiamo non solo convivere, ma aiutarci a vicenda. Una parola che è molto usata in Occidente è la reciprocità. Ecco, si chiede, si pretende ai paesi islamici la reciprocità, come da noi è possibile pregare, costruire, così anche da voi. Ecco, questa parola però non l'ho letta molto nei documenti del sinodo. La reciprocità è un concetto politico, cioè come faccio io? Non posso dire io ti permetto di avere una moschea. Dove ti permetto? In Francia? In Svizzera? Ma quello è un problema dello Stato svizzero-francese o italiano. Dunque, la reciprocità non è tra chiesa e la comunità musulmana, la reciprocità è tra stati. Il problema è che nel mondo islamico lo Stato e la umma si identificano e dunque non c'è parità. Però la reciprocità per me significherebbe che un paese come la Svizzera dice, bene, volete avere in Svizzera questa libertà sotto tutti gli aspetti? Allora, io non accetto di ricevere i marocchini, per esempio, se da voi non c'è anche questa libertà, perché se no quelli devono applicare la reciprocità. Perché non lo fanno? Perché se ne fregano per parlare chiaro della religione e dei grandi principi, interessano gli interessi materiali. Tutti sanno che in Arabia Saudita è il paese più oscurantista sotto quel riguardo, ma nessuno oserebbe anche fare un rimprovero perché Dio benedica i soldi dell'Arabia Saudita. È questo che deve cambiare. Secondo lei, i cristiani in Medio Oriente potranno effettivamente realizzare qualche cosa di questo sinodo o rischiano di essere soltanto parole così che purtroppo lasciano il tempo che trovano? Dunque, il rischio esiste sempre, perché in fin dei conti dipende da noi. Che cosa? Dipende dai vescovi, dai fedeli, da ognuno. Se un vescovo torna e dice era bellissimo, anzi Roma è una meraviglia, beh, è finito. Ma credo che è possibile, che arriveremo a qualcosa perché la gente sente che le cose non vanno, non possono più continuare così. E tutto è partito, lo sa, dal problema dell'emigrazione sempre più forte e continua verso l'Occidente e dunque la sparizione è lenta, può prendere un secolo e più, ma rischia di sparire. Dunque, si tratta per noi di coscientizzare di più il popolo che la questione non è solo privata. A livello privato ognuno si arrangia, ma si tratta di comunità. A far capire che la comunità cristiana, se se ne va, è una perdita prima per i cristiani d'Oriente, ma per tutti i cristiani del mondo, perché sparirebbe una dimensione, un polmone, come diceva Giovanni Paolo II, ma anche e soprattutto per i musulmani. Perché i cristiani sono l'elemento dinamico della società islamica, laddove si trovano, la società civile è più progredita, è più aperta, è più tollerante. Questo si può dimostrare sociologicamente. E i musulmani lo dicono sempre di più. Anche di nuovo il dottor Sammak ha avuto una pagina intera sulle tre per dire il ruolo che hanno avuto i cristiani arabi nell'evoluzione, nell'ultimo secolo della società araba e libanese. Dunque, questo è una certezza. Speriamo che si applica. Questa mattina all'Istituto Orientale ho incontrato un giovane iracheno, studente, che mi dice che no, lui è venuto via dall'Iraq e non vuole più tornare. E certo, ancora una volta, a livello personale non possiamo dire nulla. Se la mia famiglia ha emigrati, i miei fratelli, i cugini, tutti quanti, che mi hanno chiesto, ho detto, beh, è la tua responsabilità. Però, dicevo, se tu emigri, parti con la tua fede, perché ti troverai in un mondo ancora più duro contro te, un mondo secolarizzato. Chi viene in Svizzera rischia di perdere la fede molto più presto che se fosse rimasto in Egitto. Non avrà problemi e scontri, ma avrà il contrario, la dolce vita che però rovina anche, può rovinare l'anima. Dunque, il mio principio è, e questo è stato ribadito nel sinodo, non possiamo imporre nulla alle persone. Possiamo solo coscientizzare e dire, se vuoi, se capisci la tua missione, ha una missione bellissima, anche se dura, rimanendo sul posto.